Dottoressa, che cos'è la SIDS? SIDS è l'acronimo di Sudden Infant Death Syndrome, in Italia conosciuta come morte in culla. E' la morte improvvisa e in attesa di piccoli bambini nel primo anno di vita, a partire dal primo mese di età. Cosa scatena la morte in culla? Le cause tuttora non sono conosciute, nonostante per ogni caso siano verificate indagini di tipo anatomo patologico, medico legale, ambientale e giudiziario. Quali sono le regole che devono rispettare i genitori? I genitori dovrebbero essere istruiti a tali regole fin dal momento della nascita del proprio bambino. Quali sono queste regole? La principale regola è quella di mettere il bambino a dormire a pancia su, in posizione supina, su un materasso abbastanza rigido e senza cuscino. Nella culla non vanno tenuti oggetti inutili o paracolpi, mentre il bambino va coperto in maniera minima, facendo attenzione che non scivoli al di sotto delle coperte. È possibile anche tenere il ciuccetto allorquando il bambino lo gradisca. Il bambino non deve essere tenuto a dormire nel letto dei genitori, mentre la culla può rimanere in camera. La temperatura ambientale deve essere sempre al di sotto dei 22 gradi. Il bambino non va coperto eccessivamente e è importante anche fare in maniera che il bimbo non viva in un ambiente dove gli adulti fumano. Inoltre è incentivato molto l'allattamento al seno, che viene considerato un fattore di protezione. Il bambino non va coperto eccessivamente.